Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Edoardo Tavassi ha fatto un gesto definito imperdonabile e per questo motivo i telespettatori dell'Isola dei Famosi si sono scatenati sui social. Ecco cosa è accaduto.eliminato Edoardo Telespettatori rivolta. Mancano due settimane alla finale dell'Isola dei Famosi e finalmente l'edizione più lunga del reality volgerà al termine decretando il vincitore di questa sedicesima edizione. Se inizialmente i bookmakers davano come vincitore Alessandro Iannoni che lo scorso 24 maggio ha abbandonato il reality rinunciando a proseguire dopo il prolungamento di un mese per via di alcuni esami che doveva sostenere, il nome del vincitore sembra essere ormai certo. Edoardo Tavassi è il gesto inaspettato.Al momento, secondo gli scommettitori, ad avere la meglio sarebbe l'attore Nicolas Vaporidis seguito a ruota da Edoardo Tavassi e da Carmen Di Pietro. I tre, sin dall'inizio sono stati amatissimi dal pubblico e hanno superato numerose nomination arrivando fino a questo punto. Nell'ultima puntata dell'Isola andata in onda lunedì 6 giugno a finire in nomination sono stati Maria Laura De Vitisi, E Stefania Bernal, Nick Luciani e Gennaro Auletto. Nei daytime che hanno seguito le vicende dei naufraghi dopo le nomination, Edoardo Tavassi si è espresso facendo una previsione riguardo chi sarà il prossimo eliminato della playa. Secondo il ragazzo romano a dover lasciare la spiaggia e cercare di rimanere in gioco sull'altra spiaggia dove attualmente vive Pamela Petrarolo sarà uno tra Nick Luciani e Gennaro Auletto. Quest'ultimo, sembra non aver preso bene la previsione di Edoardo e subito è andato a riferire a Nick quello che ha detto cercando di metterlo contro. Secondo Gennaro, Edoardo sta giocando dall'inizio del suo percorso cercando di fare il simpatico e inculcando ai telespettatori quello che lui pensa facendo in modo che vengano eliminati i concorrenti che lui e vorrebbe fuori. Nick Luciani, nonostante le ultime discussioni, ha detto che il pubblico ha voce in capitolo cercando di non farsi coinvolgere da questa questione. I fan dell'Isola dei Famosi in rivolta.Dopo le vicende, sui social, i telespettatori sono insorti nei confronti di Gennaro accusandolo di voler aizzare a tutti i costi il cantante dei cugini di campagna contro Edoardo. Per questo motivo, potrebbe essere proprio lui a dover perdere il televoto, dato che anche i sondaggi lo danno come sfavorito, mentre Nick risulta essere il naufrago al quarto posto nella classifica dei papabili vincitori di questa edizione del reality. Edoardo Tavassi è il gesto che non è piaciuto a Gennaro a un letto. Sicuramente, durante la puntata verrà mostrato questo momento e Nick, Gennaro ed Edoardo avranno modo di chiarirsi o discutere e molto probabilmente anche gli opinionisti in studi interverranno sul caso dicendola loro. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!